Qui siamo a Roma, ma l'iniziativa del World Cleanup Day abbraccia tutto il mondo nella città eterna a coordinare l'attività di pulizia di questo weekend e l'ONG Retake Roma in collaborazione con Marevivo. Decine di volontari immobilitati per ripulire gli angoli più sperduti della città, come Angelica. Siamo cresciuti nel rispetto dell'ambiente, per questo dobbiamo agire, sappiamo di dover agire, i vecchi si occupino delle politiche, noi dell'azione. Qui invece, in Sudafrica, ad Alexandra, vicino a Johannesburg, l'azione è stata rivolta al fiume Juskei, che dà da bere alla città. L'iniziativa prosegue anche domenica e chi vuole può sostenere quella promossa dalla propria città. Il World Cleanup Day è stato lanciato nel 2018 su iniziativa di varie ONG che hanno voluto copiare gli estoni impegnati, in questo senso, un giorno all'anno nel proprio paese.